Ben ritrovati a tutti a queste nostre chiacchierate settimane di storia. Questa è una puntata un po' speciale nel senso che io volevo parlare di una cosa e poi temo o invece parlerò completamente d'altro. Perché? Perché volevo dedicare questa puntata alla storia dei teatri della nostra zona e voi forse sapete che a Domodossola il teatro è intestato a Gian Giacomo Galletti. Bene, parleremo del teatro, però io sono andato un po' alla ricerca di chi era questo Gian Giacomo Galletti e ho scoperto una persona di cui, almeno io ho sentito parlare poco, che invece è, secondo me, un personaggio solano dell'Ottocento di primissima classe. Quindi poi parleremo anche del teatro. Ma credo che dobbiamo prima destinare un po' di tempo a delineare questo personaggio. Allora, Gian Giacomo Galletti è nato a Bognanco, anzi per la prigione è nata in una frazione di Bognanco a Colorio, che allora faceva parte del comune di Bognanco di dentro ed è nato nel 1798. Quindi diciamo siamo alla fine del Settecento ed è un ragazzo probabilmente, attenzione perché poi di queste cose magari ci si fa un'idea ma non è detto che sia del tutto vero. Però cosa dite voi se uno a 12 anni scappa di casa e va ad arruolarsi tra gli operai che lavorano perché stavano costruendo per Napoleone la strada del Sempione? Possiamo immaginarci che magari i suoi sono andati a correre di dietro, hanno dato due sberde e gli hanno detto di tornare a casa. Ma siccome era anche, mi pare, il quinto di nove figli, può anche darsi che il padre ha detto, meno male, una bocca di vino da sfamare. Queste cose non le sappiamo. Certo sappiamo che Gian Giacomo è partito, si è messo a lavorare nel Sempione e ha cominciato a lavorare. E poi doveva essere un intelligente perché non sappiamo bene quali studi abbia fatto. Però è uno che ha fatto fortuna ed è dato in Francia, è dato in Francia e lì ha cominciato a trafficare, diciamo, a commerciare e piano piano ha fatto fortuna. Nella sua vita, stando almeno alle fonti che ho trovato io, ci sono molti buchi perché alla fine la prima notizia certa che abbiamo di lui è del 24 agosto del 1826. Quindi c'è un buco di vent'anni in cui non si sa bene cosa abbia fatto. Ma perché lo sappiamo? Perché lui dopo aver lasciato il lavoro sulla strada del Sempione è probabilmente emigrato a Ginevra, dove ha fatto i primi soldi. Poi si è trasferito a Milano e a Milano si scopre che è proprietario di un negozio di oreficeria, di gemme preziose, dove commercia oro. Quindi vuol dire che ha fatto fortuna, quindi vuol dire che si è fatto una reputazione, quindi che è diventato abbastanza ricco e quindi è diventato così abbiente da essere citato dalla Gazzetta di Milano del 24 agosto 1826. Siamo ai tempi in cui ci sono gli austriaci, se è andato Napoleone, mancano ancora un po' di anni per la rivoluzione del 1848. E proprio nel 1848 quando scoppia la rivoluzione lo ritroviamo ad essere uno di quelli che, prendiamoci chiaro, finanzia le cinque giornate di Milano. Quindi acquisisce anche dei metri patriottici, evidentemente stava bene nel suo, però si sentiva italiano e quindi ha dato una mano durante le cinque giornate. Tra l'altro negli anni lui ha dato una mano proprio anche alla guerra, ormai era già anziano per combattere, ma per esempio lui ha finanziato nel 1800, prima la seconda guerra di indipendenza, ha pagato lui i cannoni della fortezza di Alessandria. Quindi vuol dire che probabilmente non era più a Milano, ma forse era tornato anche dalle parti dell'Ossola, perché non erano tanto contenti gli austriaci, allora il confine passava al Ticino se qualcun milanese dava i soldi per rinforzare quelle che erano la cittadella sabauda di Alessandria. Fatto sta che il nostro Gian Giacomo Galletti ha cominciato a pagare anche per la costruzione della cittadella di Alessandria. E quindi si è dato da fare e ha lanciato tra l'altro un prestito nazionale, una grande raccolta di fondi per poter finanziare la guerra. Allora il Piemonte nel 1859, siamo alla seconda guerra di indipendenza, era un piccolo Stato che doveva affrontare l'Austria, quindi prima di tutto mancavano i soldi, un po' erano stati prestati dalle potenze occidentali, soprattutto dall'Inghilterra. Bisogna sempre ricordarsi che la Gran Bretagna in quel momento non vedeva l'Austria bene, aveva interesse ad avere un'Italia più forte nel Mediterraneo, a Londra vedevano bene una riunificazione italiana. Ecco Mazzini per esempio quando era dovuto scappare era scappato a Londra perché c'erano tanti rifugiati che erano accolti abbastanza bene, qui in Svizzera erano rifugiati di transito, gente che scappava dal milanese andava in Svizzera, che era neutrale già da allora e quindi era più o meno protetta, ma chi poi arrivava a Londra aveva anche più possibilità poi di organizzarsi. Beh andiamo avanti, quindi prima della seconda guerra di indipendenza, tra la prima e la seconda guerra di indipendenza raccoglie fondi per l'esercito e a partire dal 1861, il 1861 è l'anno in cui è iniziata, come voi sapete, il Regno d'Italia, il mese di marzo dopo l'impresa di Garibaldi del 60, poi con il 61 ci sono state le varie unificazioni, il re Vittorio Emanuele è diventato il primo re d'Italia, troviamo il nostro amico che ritorna in Ossola e avendo evidentemente fatto fortuna, nel 1861 Gian Giacomo Galletti ha iniziato a fare il filantropo, cos'è il filantropo? Il filantropo è colui che destina tanti soldi in beneficenza, lui però le idee le aveva chiare, innanzitutto non gli piacerono tanti preti e quindi ha detto io voglio soprattutto lavorare perché in Val Bonianco e in tutta l'Ossola si moltiplicano le scuole perché i ragazzi che stanno sui montagna devono imparare a studiare, però preti non ne voglio e era un po' una rivalità secondo me col collegio Rosmini, quindi ha impiantato tante scuole pubbliche, ha finanziato le scuole pubbliche perché allora i piccoli paesi non avevano soldi per farsi almeno le scuole elementari e quindi ha cominciato a dare una mano, a dare una mano per fare degli asili per i bambini, lui voleva che i bambini prima che andassero a lavorare negli alpeggi, prima che andassero a fare i pastori o gli allevatori o gli agricoltori sui montagni avessero un minimo di istruzione, non solo avessero un minimo di istruzione ma avessero anche i mezzi per poter coltivare in montagna ed ecco ha inventato un consorzio agrario, una società operaia di consorzio agrario, praticamente finanziava gli allevatori con dei piccoli prestiti per permettere di migliorare l'attività, un filantro, uno che ci teneva alle proprie cose. Tra l'altro in quel momento, non succede molto spesso, ma da vivo a Domodossola a quel punto gli detto la cittadinanza onoraria e gli venne intitolato una via, ora intitolare da vivo una via significa sicuramente una certa attenzione. Stiamo avanti, a quel punto non gli bastava e nel 1869, dovendo si procede all'elezione del Parlamento, gli Ossolani gli proposero di diventare deputato, lui non voleva fare deputato, perlomeno sembra dalle carte, non ne fosse particolarmente entusiasta, però accettò e difatti venne eletto, venne eletto nel Parlamento nel 1869 e venne rieletto anche nel 1871. Purtroppo nel 1871, state male di salute, insomma, cominciava già a avere 73 anni, 74 anni e quindi si dimise, nella seconda legislatura si dimise per motivi di salute. La Camera rifiutò le sue dimissioni e quindi lui rimase fino alla morte che avvenne nel 1873, rimase deputato in carica e mise fine alla sua vita. Morì a Parigi, perché nel frattempo io ho continuato un attimo con i ricordi locali, con i ricordi italiani, lui andava e veniva da Parigi, perché a Parigi aveva impiantato probabilmente le succursale delle sue aziende, si era costruito una bella casa in centro, aveva una moglie giovane che purtroppo morì pochi anni dopo il matrimonio, purtroppo per lui, e quindi aveva una vita, diciamo, sia in Italia che in Francia, definendosi benestante. Sul suo passaporto c'era scritto benestante, però un benestante che si occupò della sua terra e quindi ecco che arriviamo alle motivazioni del perché a Domodossola, dovendo cominciare a costruire il teatro nel 1882, dicono, beh, dobbiamo pure intestargli qualcosa di visibile. E gli intestarono il teatro appunto a Gian Giacomo Galetti. Volevo però sottolineare che i suoi funerali furono fatti in Francia, perché lui appunto morì a Parigi, nella chiesa della Madeleine, ma per sua volontà i suoi resti furono poi tubulati a Domodossola e lo so, tutt'ora nella cappella del cimitero sulla strada verso il colle della Mattarella e quando poi non ci fu quel cimitero furono portati a centro, nell'attuale cimitero di Domodossola. Ma nel 1869, un altro passo indietro, Galetti fece una scelta fondamentale di vita, creò a Domodossola la Fondazione Galetti. La Fondazione Galetti, oltre ad avere, diciamo, portò in auge ancora quel discorso delle scuole elementari, ma soprattutto volle iniziare in Ossola un'attività simile a quella che il Cobianchi aveva iniziato a Intra, cioè una scuola superiore, diciamo così, per gente che già era capace di leggere e scrivere per rapportarla alle attività professionali, per far crescere i giovani come attività professionali. E quindi questo fu un ulteriore passi in avanti verso l'osso. Questa fondazione crebbe dopo la sua morte, perché lui lasciò un testamento molto puntiglioso di come dovevano essere impegnate le sue sostanze, per esempio in questa fondazione. E addirittura, calcolando gli interessi degli interessi, arrivò a dire che cosa si doveva fare nel suo soldi fino a giorni d'oggi, fino a dopo il 2000. Non poteva sapere che poi sarebbe stata l'inflazione che c'è stata dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutti i disastri o vantaggi che abbiamo avuto. Ma lui aveva ipotizzato un fondo tale che, dando degli interessi, quegli interessi avrebbero dovuto continuare a produrre delle altre attività. Quindi, morto lui nel 1873, le cose continuarono. Partì l'attività della fondazione, sia dal punto di vista museale, sia con una scuola professionale di intaglio, di disegno, di lingua francese. Lui ci teneva che da queste parti si imparasse il francese. E nel 1882 confluire in una scuola a Domodossola di arti e mestieri. Nel 1912 furono chiamate queste scuole professionali diurni e serali, che furono acquisite dallo Stato nel 1914. E nel 2008, vedete come corre veloce il tempo, l'Istituto Professionale per l'Industria e Artigianato Galletti venne aggregato al Marconi per costruire insieme l'attuale istituto Marconi-Galletti. Abbiamo così scoperto da dove viene questo nome e anche questa persona che merita, secondo me, maggiore attenzione. Diciamo che lui aveva lasciato 60.000 lire alla città di Domodossola quando morì nel 1873, una cifra molto, molto grossa. A questo punto, gli ossolani, arriviamo nelle cose più concrete, nel senso che voglio oggi parlare soprattutto del teatro Galletti, nel 1882 gli ossolani decisero di costruirsi un teatro e poi lo intitolarono a Galletti. In quell'occasione fu dipinto il fondale del teatro. Fu dipinto in occasione del teatro da Bernardino Bonardi, che era un pittore illustre della Val Vigezza, era nato a Coimo nel 1834 e morì nel 1923. Un pittore vigezzino che dopo aver frequentato nella sua valle varie botteghe si iscrisse poi all'Accademia Albertina di Torino di Belle Arti. Questo scenario forse voi l'avete già visto e l'avete già visto riprodotto in tanti quadri, perché rappresenta Piazza del Mercato a Domodossola come era a metà dell'Ottocento. Questa grande sceneggiatura, questo grande sipario fu messo appunto nel teatro alle spalle degli attori e poi si rovinò durante gli anni, ma recentemente, una decina di anni fa, è stato ripristinato, sistemato ed attualmente non è più al teatro Galletti, ma viene mantenuto, mi pare, a Palazzo San Francesco, è stato completamente restaurato ed è un punto importante di questa raccolta nel Museo Civico di Palazzo San Francesco. Il teatro in sé, il teatro Galletti, quindi ha una storia che inizia nel 1882, c'è ancora oggi, è stato rimaneggiato più volte, quindi all'entrata, che da, come sapete, molti di voi sanno, che da direttamente su Piazza Mercato c'è un loggiato con alcune colonne, l'interno però è completamente diverso da come era stato realizzato, attualmente è una platea e una galleria, ma è nella stessa area in cui c'era precedentemente. Questo è un teatro che è per circa 200 persone e rappresenta un po' il centro della vita culturale di Domodossola. Ci sono degli altri teatri nella zona di cui vorrei parlarvi, ma di uno in particolare, cioè il teatro sociale di Intra, dedicheremo a questo teatro, perché ho tutta una storia particolare, la prossima puntata. Poi soltanto ricordarvi che attualmente altri teatri che abbiamo nella nostra zona sono la fabbrica di Villa Dossola e qualcosa a Domenia e anche altri luoghi di spettacolo. Ma il concetto fondamentale è questo. Mentre il teatro di Intra, non quello che vedete vicino a Lungolago, quello che è stato purtroppo, aggiungo, abbattuto nel 1961, era un teatro privato, il teatro Galletti è un teatro pubblico. Il teatro, come luogo di riunione della comunità, ha avuto diverse interpretazioni durante i secoli. Poi pensate al magnifico teatro greco di Siracusa, oppure a quello di Taormina, era un teatro greco in cui, come avrete visto in tante foto archeologiche, c'è una zona degli attori e poi una grande platea, di solito degradante, con gli spettatori. È il concetto dell'arena, pensate all'arena di Verona. Ma durante gli anni il concetto del teatro romano, il teatro greco, si è evoluto. Shakespeare nel 1500 rappresentava le sue opere in teatri molto diversi da come li immaginiamo oggi. Immaginate una casa di ringhiera circolare con tanti balconi e la gente stava al balcone a vedere cosa succedeva in mezzo. Nell'Ottocento, ecco perché riprendo col teatro Galletti, nell'Ottocento il teatro poteva essere, qualcuno più antico, ancora del medioevo, ma era di solito l'espressione della ricchezza di una città. Cioè le famiglie più cospicue si mettevano insieme e costruirono un teatro di cui erano con proprietarie. Immaginate la scala, il teatro della scala. I palchi non erano di proprietà pubblica, ma erano di famiglie capienti, cospicue, che avevano contribuito alla costruzione del teatro, ma che detenevano il proprio palco. E il palco non era soltanto l'occasione per andare a vedere la rappresentazione che era in corso, ma nel retropalco addirittura c'era la cucina. Perché? Perché era luogo in cui la famiglia si ritrovava e ovviamente tanto era l'importanza del palco per posizione rispetto alla scena, tanto valeva di più la famiglia nel controllo, anche nei rapporti sociali di questa comunità. Il teatro Galletti non è un teatro di questo tipo, è un teatro pubblico, costruito quindi dalla comunità, ma se vogliamo in un criterio socialista, cioè dove la gente paga il biglietto per vedere lo spettacolo, ma non è proprietaria del proprio palco, o palchetto, o comunque non è proprietario di uno spazio. Perché essere proprietari comporta onore e oneri. Se siete comproprietari dovete partecipare anche alle spese del teatro. Se il teatro costa, voi non solo avete il diritto di andare a vedere la rappresentazione, ma il deficit della società del teatro poi lo paga ciascuna famiglia che appunto possiede il palco. E questo ha comportato negli anni all'abbattimento, come è successa d'intra, di alcuni teatri nel momento in cui non ci erano più le famiglie originari che magari cento anni prima avevano dato i contributi sostanziali per la loro costruzione. Il teatro è una forma che poi ha avuto un'altra problematica, diciamo, la costruzione del teatro. La nascita del cinematografo. Il teatro esisteva prima del cinema, ma quando è arrivato il cinema molti teatri sono diventati cinema. Ma quando sono diventati cinema non potrò più fare il teatro. Soprattutto cambiava completamente il concetto del palcoscenico. Un teatro è importante, non soltanto per la bellezza di dove si sede la gente. Tenete conto che fino all'Ottocento, a parte i palchi dove la gente si sedeva, la gente in platera stava in piedi. Stava in piedi, quindi era molto numerosa. Mentre invece, mentre un teatro contava quello che c'era dietro la scena, il palcoscenico, le quinte, i retri, tutti gli spazi dietro al palcoscenico che spesso rappresentava metà dell'immobile. Perché? Perché per avere le scenografie, per avere i movimenti, per avere l'acustica, era molto importante quello che c'era dietro. Una quantità di gente che ci lavorava. E c'era un grande problema che noi oggi, finisco con il cinema dicendo, invece il cinema può anche essere un muro, basta uno schermo bianco e si proietta il cinema. Adesso il film. Adesso ci saranno dei metodi diversi di comunicazione, di trasmissione, di suono, ma più o meno quello è il concetto. Un aspetto fondamentale e anche pericoloso dei teatri è che i teatri bruciavano. Bruciano anche adesso. Ma perché bruciavano? Perché noi siamo abituati oggi, se vediamo una rappresentazione teatrale in televisione o andiamo a teatro, vediamo la luce e diamo per scontato la luce elettrica. Ma una volta la luce elettrica non c'era. Quindi per dare la luce al teatro si doveva illuminare il teatro con una quantità di candele e si doveva, con un gioco di specchi, dare luce alla platea. Questo è pericolosissimo perché pensate che Archimede riuscì a bruciare, dicono, le vede dei romani con degli specchi che raccoglieva una luce del sole. Raccogliere la luce di una lampadina per cercare di proiettare il cono di luce sulla scena può essere pericolosissimo perché può scaldare quell'ambiente. Di fatto i teatri sono sempre stati a rischio di incendio. Se ci pensate, tutti i teatri del mondo si sono bruciati più e più volte e vengono ricostruiti, soprattutto prima che il sistema delle lampadine elettriche riducesse questo rischio di incendio, che però era una questione importante. Un altro aspetto, così concludiamo la puntata, è stato che nei teatri per la prima volta furono edifici pubblici che ospitarono l'illuminazione a gas. L'illuminazione a gas dà un grande vantaggio di poter aumentare o diminuire la luce all'interno di una platea, più che una platea di un palcoscenico, perché era possibile riducendo il gas ridurre la luce, ma anche lì era a fuoco vero e quindi era molto facile che ci fosse un surriscaldamento. Per questo nei teatri quando c'era una rappresentazione era obbligatorio, prima e dopo, prima e dopo l'introduzione dell'illuminazione a gas che ci fossero presenti sempre i pompieri, perché era facile che ci fossero appunto degli incendi. Questo presupponeva anche tutto un sistema di sicurezza per far defluire gli spettatori il più veloce possibile, ma una volta i teatri erano tutti in legno, proprio per permettere l'acustica la migliore possibile era tutto in legno. Immaginatevi una scala dove ancora oggi, anche se è vietato, dietro ai palchi esistono appunto dei locali, dei locali uso cucina e la gente si preparava, faceva i cuochi dei milanesi ricchi, preparavano da mangiare tra un atto e l'altro direttamente dietro il palco. Immaginate di moltiplicare per cento questi focolari, capite che basta che capi un po' di fiamma e il disastro è completo, quindi la necessità di avere man mano delle opere di sicurezza. Beh, l'abbiamo presa un po' lunga, eravamo partiti dal nostro Galetti, Giovanni Giacomo Galetti che meritava comunque di essere meglio conosciuti e siamo passati per il teatro Galetti, abbiamo scoperto cosa è stata la fondazione Galetti e la sua importanza soprattutto dal punto di vista dell'educazione e della crescita dei ragazzi dell'Ossola, abbiamo visto la strada che ha fatto questo ragazzo che a 12 anni è scappato di casa per andare a lavorare per la costruzione della linea del Sempione, della strada, la linea è venuta dopo, della strada di pensione e continueremo la prossima settimana a raccontarvi di teatro, saremo magari più sintetici. Parleremo di un teatro che non c'è più, il Teatro Sociale di Inta, costruito nel 1836, quindi 50 anni prima del Galetti, è abbattuto nel 1961, là dove oggi, entrando per Intra, per intenderci la farmacia Nava, così ci intendiamo, lì c'era forse uno dei più belli teatri d'Italia che però, proprio per mancanza di proprietari e perché ormai era diventato vecchio, anziché essere strutturato, nel 1861 è stato abbattuto. Ricordo, ero proprio un bambino piccolo, una volta entra in quel teatro, fu l'unica volta, ma me lo ricordo ancora, che vedi questo strano edificio che poi pochi anni dopo viene trasformato in cinema e poi definitivamente chiuso e costruito come attualmente con un grande palazzo di residenza. Bene, amici, grazie dell'attenzione e una buona giornata, una buona continuazione per tutti. Grazie a tutti.